Due su tre dei nuovi acquisti grigiorossi sono stati presentati nella sala stampa del centro sportivo Arvedi. Lucas Finazzi e Riccardo Pasi, il primo centrocampista brasiliano classe 1990, nella prima parte della stagione ha militato nelle file del Gorseto e arriva a Cremona con la formula del prestito con diritto di riscatto. Lucas Finazzi ha già vissuto la sua prima esperienza in grigiorosso con l'esordio a Bergamo contro l'Albino Reffe. Sicuramente avendo già avuto il mister in passato un po' era più facile per me però diciamo che non è mai facile arrivare a fare un giorno di allenamento, non conoscere le caratteristiche dei tuoi compagni e sapere giocare dal miglior modo. Però diciamo che durante la partita ho provato a guardare più o meno come ognuno dei miei compagni giocavano e ho provato a inserire il meglio possibile. Speriamo di moda a moda adesso sempre migliorare questa intesa con i compagni. Potevo fare di più, un po' di iniziative però... Cioè, di prendere un po' di più di iniziative però penso che il mio gioco più o meno è quello di... di provare a rubare un po' di pallone, gestire la palla bene e far giocare bene la squadra più che altro. Io mi sento un giocatore che può fare tutte quelle due roba lì, cioè o inserirmi o anche gestire. Devo capire più o meno quello che il mister vuole da me e quello che la squadra ha più bisogno. E con più giorni di allenamento vedrò più o meno cosa seguirmi. Diciamo che a me è mancato un po' in queste ultime stagioni il gol. Quello è mancato, se no sicuramente avrei avuto anche un prodotto competitivo. Mi manca un po' essere più cattivo nella porta. Ho avuto anche l'occasione di fare il gol. Però diciamo che la palla non è entrata. Spero quest'anno, con la Cremonese, di iniziare a fare anche quello. Riccardo Pasi, esterno offensivo, classe 1990, arriva a titolo definitivo dal Bologna, società in cui ha disputato i primi mesi della stagione. Nato a Bologna, è cresciuto nelle giovanili della società rosso-blu ed ha esordito in Serie A con la maglia del Parma. Nella stagione 2013-2014 ha collezionato 25 presenze e messo a segno 7 reti nella fila del Sant'Arcangelo. Conosce tanti giocatori della Rosa Grigio-Rossa, a partire da Alessandro Bassoli, con cui ha condiviso buona parte della sua carriera. A livello fisico sono a posto. Mi manca magari un po' il ritmo partita, perché l'ultima partita l'ho fatta un mese e mezzo, due mesi fa a Livorno. Mi sono sempre però allenato. Ho avuto un periodo che aveva stato fuori una settimana, che mi ero mezzo stirato. Però fino adesso, fino anche a ieri, mi sono allenato con la squadra. Ieri ho fatto il primo allenamento qui, anche con la Cremonese, con la squadra. Penso di essermi già inserito bene anche nel gruppo. Ne conoscevo, come avete detto prima, 6-7 anche Palermo. Magari ci ho giocato contro, Brighenti, eccetera. Quindi adesso solo col tempo, solo il tempo e giocando, mi dirà come mi inserirò, se sarà tutto a posto. Non ho mai avuto problemi con nessuno, quindi penso che neanche qui. Comunque so la caratura di ogni giocatore, più o meno li conosco tutti. E quindi ho visto anche gli ultimi risultati, le ultime strisce di risultati. Tutti mi hanno parlato anche benissimo del mister, che lavora molto molto bene. e da quando è arrivato il mister anche i risultati si sono visti.